Wella ragazzi, ciao a tutti le nicche, bentornati qui su Farming Simulator 22 nella mappa Italia come sempre ragazzi vi vado a ricordare che in descrizione ci potete trovare un link che vi permette di comprare questi e tanti altri giochi scontati vi ricordo anche ragazzi che in descrizione ci trovate i miei social, la lista delle mod che uso in questa serie e poi mi raccomando ragazzi se vi iscrivete al canale ricordatevi di attivare la campanellina così ricevete una notifica ogni volta che carico un nuovo video sul canale allora ragazzi come potete notare abbiamo parecchi soldi ma vi spiego il perché praticamente dopo tre anni ho fatto una live qua su Twitch scusate su Youtube volevo dire perché di solito le faccio su Twitch ieri ho fatto una live qui su Youtube e praticamente mi sono portato avanti in live non tantissimo devo dire perché mi davano un botto da parlare in live le persone e quindi mi sono concentrato poco sul gioco però comunque praticamente durante la live ho venduto l'olio di oliva ne avevamo un bel po' più di 100 pallet quindi ecco da dove arrivano tutti i soldi che abbiamo ovviamente ho già restituito il debito perché ho fatto più soldi di questi e insomma raga dopo tre anni sto un po' anche a rifare le live qui su Youtube perché praticamente il regolamento di Twitch è cambiato adesso finalmente io che sono partner anche su Twitch posso tornare a farle live qua su Youtube sono cambiate le regole e insomma è così che ho fatto questi soldi ve lo volevo dire perché magari o qualcuno di voi non l'ha vista o non l'ho voluta vedere insomma non lo so comunque dovevo dirvelo come ho fatto questi soldi allora abbiamo questi soldi cosa ci facciamo con questi soldi praticamente oggi andiamo a comprare la masseria Parma per vari motivi ovviamente sicuramente il motivo più importante è che dopo più di 40 episodi ci sta che cambiamo ma non dico cambiare che ne compriamo un'altra che compriamo una nuova masseria e poi la masseria Parma oltretutto è anche molto scontata non dico che è regalata ma è scontata del 30% praticamente invece di costare un milione costa 700 mila euro quindi mi basta farmi un piccolo prestito e compriamo la masseria Parma cosa ci guadagniamo in questa masseria? nella masseria Parma ci guadagniamo un recinto per pecore non ricordo quante pecore forse sempre 300 come all'altro non mi ricordo comunque un recinto per le pecore un piccolo recinto per galline da 100 galline questo lo ricordo c'è anche il recinto dei suini sulla masseria Parma c'è un'officina per le riparazioni una casa per dormire e per cambiarsi d'abito e c'è anche un piccolo terreno il 14 con la masseria Parma insomma un paio di cosette con questi 700 mila euro ma diciamo che la novità più grande è proprio il recinto dei suini principalmente come potete notare ho già iniziato a lavorare i terreni li ho lavorati ovviamente durante la live che ho fatto aspetta che stavo a fare io queste balle di insilato ah le stavo portando al campo 13 no perché non mi ricordo neanche quello che ho fatto durante la live perché mi davano sempre da parlare e non mi ricordo neanche cosa ho fatto vediamo un po' quindi c'ho un paio di balle di insilato va bene allora campo 13 a proposito allora fatemi vedere un pochettino che cosa tengo sul terreno a erba sarà che l'ho falciato vero? eh sì l'ho falciato sì ma che ho fatto? ho fatto ho fatto solo balle di insilato allora no perché ora che ci penso non è stata una brillante idea se ho fatto solo balle di insilato eh sì ho fatto balle di insilato eccole là eh no lo dico perché mo che abbiamo la masseria Parma lì ci stanno pure le pecore era più utile erba beh a diaverità questa ancora ancora è erba in teoria se gliela porto se la prendono come erba perché mi pare che erba non ne abbiamo più lattuga eh no non abbiamo praticamente niente niente erba un figo secco vabbè allora comunque sia prendiamo prestito e compriamo sta masseria Parma e un po' di prestito in più per comprare gli animali ovviamente allora masseria Parma è la D costa 724.000 euro normalmente costa più di un milione compra ok allora mo si è svalutata 600.000 euro vabbè è normale allora per andare qua eccoci qua allora qui è dove prendiamo le galline il pollaio 100 galline immediatamente immediatamente ok ci abbiamo le galline allora prendiamo la petta mandiamola al panificio che è di strada aspetta ma il panificio non l'ho segnato neanche no vabbè campo 13 è di strada pure lui i suini per ora sinceramente non lo so cosa mangiano i suini mangeranno un botto di cose quindi magari a prenderli ora vabbè in caso ne pigliamo 5 pigliamone 5 vediamo che vogliono tanto che cambia sono tutti uguali quant'è che mi costa pigliarne uno ah 40 di che ammazza 1200 euro no 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 ne voglio prendere 5 di quelli proprio piccoli voglio spendere poco per ora 1000 euro vai compra giusto un paio di suini per capire cosa gli devo dar da mangiare un botto le cose vabbè come sempre i suini mangiano quasi di tutto allora frumento orzo colza girasoli semrisoie patate sorgo vabbia betra zucca inoltre hanno bisogno di acqua questo è un maialino superati i 6 mesi di età gli animali vabbè si possono riprodurre quindi mangia un po' di tutto vorrebbe babbietro da zucchero patate sorgo semi di soia girasoli aspetta un po' ma io ce l'ho quella serra che fa un po' di tutto l'avevo presa una ce l'abbiamo mi sa di no vero ne pigliamo una che ci facciamo fare un paio di barbabietole ma giusto perché non riesco con facilità a gestire tante cose solo una di quelle piccole serre solo una di questa qua va bene spaccate il terreno come sempre modellamento smussa va bene allora dunque la devo rinominare però aspetta un po' fa vedere una cosa ecco se bagga se bagga sempre la mod revamp mannaggia a me che l'ho aggiornata mi sa che torna la versione precedente che non mi dava problemi allora rieccoci allora gli famo fare un po' di barbabietole attiva e ok voleva anche famogli fare pure qualche patata ecco famogli fare un po' di roba per dar da mangiare ai maiali lo so che a molti di voi non piace questa cosa però siccome al momento ho altro seminato e poi comunque attivando tutti e tre mi produce un terzo un terzo un terzo non è che produce mille e cinque capito non è che produce così tantissimo attivandone tre mi produce un terzo un terzo un terzo quindi nessuno di questi tre produce a velocità massima attivandone tre ok allora girasoli distribuzione barbabietole distribuzione girasoli eh barbabietole che è l'altro patate ovviamente tutto ciò dovrebbe arrivare qua dentro attiviamo i girasoli se no non arriva niente vabbè attiviamo tutto a diaverità non è importante ma lo famo ok così mo le barbabietole arriveranno le patate arriveranno e girasoli pure così al porcile almeno gli posso da qualche cosa ok ok eccoci qua masseria parma vedete le galline lì per terra quelle che abbiamo comprato allora masseria parma perfetto andiamo a dar da mangiare alle nostre galline della masseria parma ecco scarica un po' troppo vicino mi sono messo ma vabbè in teoria non prendono molto queste queste mi pare che prendono più o meno 1.6 ora ci vuole qui l'erba per le pecore che mo le prendiamo dove cavolo è il qua da qualche parte eccolo ah pure qua ce ne vanno 300 mamma mia vabbè cominciamo con una sessantina per ora raga sì 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 cominciamo con sessanta che costano una barca di soldi buoni cominciamo con sessanta perché se no ci vogliono 200 mila euro di pecore tanto queste sono quelle mature no le ho prese mature mi pare di sì allora ci vuole acqua e solita erba allora per l'acqua mi viene in mente una bella idea andiamo a andiamo a prendere io di pozzi quanti ne ho perché comunque il pozzo mi può tornare utile ma non ne voglio avere troppi dei miei pozzi pozzo 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 ne ho solo uno che forse neanche produce abbastanza facciamo così qui ci mettiamo l'acqua quella normale la fontanella perché sapete che questi bevono un botto quindi mi conviene la fontanella perché la fontanella mi dà sempre acqua il pozzo invece magari non ha acqua quindi io qua voglio una bella fontanella invece un pozzo lo andiamo a piazzare dai suini perché tanti suini bevono poco lo metto qua dovrebbe andar bene così con questo pozzo facciamo un pochino di acqua in più per le nostre serre allora magari ok facciamo così mettiamo mille mille che risparmio qualcosa così perché così spendo 960 così spendo mille e due pochino di più ma produco 2000 litri invece che 1500 distribuzione va bene allora poi per l'acqua prendiamo il il solito mi trovo abbastanza bene prendiamo questo che mi trovo bene così con la fontanella in un attimo in un attimo ho modo di dare acqua probabilmente anche questo prende un botto di acqua come quell'altro porcile cibo quello è ovvio è un altro problema allora è vero che ha detto che ha detto che i suini mangiano un po' di tutto no allora i suini se gli va bene io comincerei con un po' di frumento ma non lo pigliano ah orzo non ha accettato no aspetta 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 ecco ma la mappa Italia di farming 19 mi sa tanto che il cibo lo pigliano da sopra da sotto sarà per la paia sicuramente il cibo è da qua ora mi ricordo su farming 19 con il camaz a scaricare qua vi ricordate raga eh di fatti oh non è tanto ma siete 5 fatevelo basta allora anche qua mi sa tanto che ci vado a fare un pezzo di percorso perché se no ogni volta allora bene dunque ah questo è arrivato e teoricamente sono balle di erba cominciamo da queste 5 vediamo un po' se le prendono no perché tanto alla fine siccome non mangiano molto è sicuro che comunque quelle balle diventeranno insilato va perché ovviamente nel tempo diventano insilato quindi ovviamente non tutto mangeranno allora ovile manca cibo mo famo così per risolvere messo facciamo così per risolvere oh quella si è spostata ha capito che era pericoloso lì perfetto è andata ok raga è così a parte la gallina volante abbiamo dato cibo abbiamo eh ok l'acqua cibo sempre 7000 come sempre gallina a posto e qui gli abbiamo dato cereali cibo basa allora che cavolo è proteine frutti della terra vabbè per quello che per quello che ho preso pochi maiali li ho presi apposta raga perché per l'appunto vogliono di tutto e di più sinceramente poi fai avanti e indietro avanti e indietro con tutta quella roba che mangiano fa passare un po' di tempo così magari mi ritrovo con un po' di di quelle cose insomma che chiedono i maiali mo di fatti in teoria io dovrei avere vediamo girasoli 20 e di fatti vedete che produce pochissimo che ce devo fare con sti 4 cosi patate che poi patate e barbabietole mi pare che è la stessa cosa è inutile che gli faccio fare patate e barbabietole perché mi pare che una vale l'altra sono la stessa identica cosa allora niente patate girasoli barbabietole piuttosto fammi un po' di mais che quello forse forse è più utile mais distribuzione va bene fammo così comunque vabbè avete visto che mangiano un botto no ah già ma qua dentro acqua non ce n'è di sicuro perché l'ho messa in distribuzione immagazzinare allora fammo passare un'altra oretta così mi fa un po' di acqua ok allora devo comprare un'altra di quella che non mi metto a fare avanti e indietro bene quanta acqua sarà rimasta poca ok vabbè sono cinque maiali dai va bene dai non penso che bevono molto ok se mette a piovere meraviglioso allora vabbè comunque galline che abbiamo qua girasoli proprio pochissime che devo fa' ovviamente che ce faccio con 88 vabbè vabbè allora almeno galline e pecore stanno a posto ovviamente i suini sapevo che era un problema quindi mi sono limitato a cinque ovviamente perché anche quelli è difficile riuscire a mantenerli con la mancanza di risorse ovviamente 89 barbabietole mi ridono in faccia sti sti maiali ma ci dobbiamo però raccontentare va bene va e va bene scarichiamo ovviamente mi rita in faccia e dice che è sta roba sta bene raga e non sarà niente di buono manca la paglia ma piano piano vediamo ce la faremo dai poi non ne so manco sicuro che ne vale la pena tenere i maiali quindi e poi come ho detto ci abbiamo guadagnato il terreno 14 dov'è che purtroppo è un terreno a cotone troppo poco non vale la pena noleggiare qualcosa per questo cotone vabbè prossimo mese posso seminare magari colza perché mi pare che sì perché comunque ma anzi a diaverità non ne vale neanche la pena mettere la colza cioè sinceramente è un terreno così piccolo è un terreno così piccolo che forse è meglio che ci metto qualche produzione cioè ma che cioè ma che ce devo fare qua è una perdita di tempo se qua ci mettiamo qualche produzione qualche sì anche perché a proposito mi conviene produzione mi conviene minimo altre due filande perché e mo famo così tanta lana che sinceramente mi straconviene ah certamente mi conviene di brutto allora qui è dove mi fanno il pallet di di quella roba di coso costruzione animali galline distributore di uova quello che ho creato io ok distribuzione perfetto le pecore invece lana la fanno qua bene costruzione animali pecore mettiamo questo qua fa sempre parte della mod che ho creato io va bene ok raga facendo così risolviamo il problema cavole ok l'ha preso l'ha preso va bene va bene ragazzi allora io direi che mo concludo il gameplay perchè il tempo è volato via spero vi sia piaciuto l'acquisto di oggi raga mi raccomando come sempre commentate iscrivetevi lasciate un bel pollicione su ci becchiamo presto ragazzi ciao alla prossima ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.